Quindi nel mio libro si assiste a una variazione di questo equilibrio di forza. Questo non è un messaggio ma era il mio desiderio. A volte chi scrive mette a posto le proprie idee scrivendo e quindi a me interessava questa cosa e ho immaginato la variazione repentina a causa di una serie di fattori sociali e anche personali del rapporto di forza all'interno di una coppia di persone apparentemente molto diverse.